Avete due ore per portarli all'essiccatore. Vado a organizzare l'evento. Ora possiamo fare casino, ma deve essere tutto in ordine entro il tramonto. Ricevuto. Sì, signore. Ehi, Chuck! Cos'è? Sì, signore. Cos'è? 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 Avanzi! 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 Ehi, cosa diamo l'è successo? Mi ricevete? Voi restate qui. Non vanno da nessuna parte. State qui, devo capire che è successo. Dobbiamo aspettare qui. Del lavoro da fare. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ci sei, Garrett? Ha da fare. Senti la puzza di fumo? Gli spari, potrebbe essere morto. Magari questo posto è diventato una trappola. Hai andato a fare la ronda e hai sbagliato il protocollo. Non ci occupiamo della sicurezza, non è il nostro lavoro. Stiamo facendo una grandissima cazzata. Guardami. Ti sentite? Guardami, dove sei? No, no, no. Rick! Grazie!